Bentornati al consueto appuntamento con il meteo. Continua l'azione dominante dell'anticiclone delle azorre su gran parte dell'Europa con un contributo anche africano. Ciò nonostante però infiltrazioni d'aria fresca in quota sulla nostra penisola possono determinare condizioni di inestabilità pomeridiana. Infatti sulla nostra regione nel corso del fine settimana ad iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso assisteremo nel corso delle ore più calde della giornata ad un aumento della nuvolosità nelle zone interne con occasionali rovesci o temporali soprattutto nelle zone di confine occidentale della regione. Tempo decisamente buono invece lungo la fascia litoranea. Temperatura in lieve aumento su valori decisamente estivi si potranno toccare i 30 gradi lungo la costa. Venti generalmente deboli di direzione variabile con una leggera componente nord-occidentale lungo la costa. Mare poco mosso. Arrivederci. Mare poco mosso. Mare poco mosso. Mare poco mosso. Grazie a tutti